Su di giri amici sportivi e benvenuti all'ennesima puntata di Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde ai vostri quesiti sul wrestling. Oggi domanda leggerina, dai, cerchiamo ogni tanto di mettere dentro anche quei quesiti un pochino più stupidotti. E mi avete chiesto, tu e il Godzilla Luca Franchini, quali altre passioni avete in comune oltre al wrestling? Il Godzilla Luca Franchini è il mio partner abituale, lo è stato all'inizio carriera su stream e lo è tutt'oggi su Sky, Sport e su Cielo. Ormai abbiamo 16 anni di convivenza in cabina di commento e ci conosciamo abbastanza bene. Però siamo molto diversi come una banconota e una moneta, come un tordo e un pettirosso, come una foca e un elefante. Ebbene sì, beh, cosa abbiamo in comune? È difficile dirlo. Io sono uno, beh, semplice. Frank, non è che sia complicato, però abbiamo due stili di vita sostanzialmente diametralmente opposti, che non si incrociano quasi mai. Cosa ci piace? Mangiare e bere? Eh, abbiamo messo su qualche chiletto in più, eh. Dovremmo iniziare magari a smaltirli. Ma ci piace il ciclismo? Ecco, ci piace il ciclismo, questo non l'avreste mai detto. Eh, mio padre da giovane è stato un ciclista e anche il Godzilla da ragazzino faceva le gare. Ogni tanto su Sky, quando vediamo i nostri colleghi che si occupano delle due ruote manubriate senza motore, ci fermiamo a fare due chiacchiere, oppure se vediamo delle immagini, eh, parte un piccolo dibattito. In stile professor Guido Baldo Maria Ricciardelli con Fantozzi, con una sieracola alzata con Gionchi. Poi vediamo, sopportiamo Salvatore Torrisi e soprattutto la sua spregiudicata juventinità. Ormai vincono sempre questi juventieni e Salvatore, ogni volta viene e ci batte la stecca. Pam, 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 pam. D'altronde il Godzilla ti fa Inter e ultimamente ha poco di cui essere allegro, anche se ha vissuto degli anni molto belli, eh, nel recente passato. Io sono simpatizzante della Roma, lo sapete, ma sono molto freddo. A me piacciono i giocatori che acquisto il fantacalcio e che cerco sempre di acquisire indipendentemente dalla casacca che si trovano a vestire. Ah, il football americano. Ecco, il football americano è una cosa che ci piace. Io giocavo a rugby, da ragazzino, il Godzilla football, e siamo tifosi di due squadre differenti. Io dei New England Patriots, che hanno vinto un sacco di roba, e lui dei San Diego Chargers, che è invece ultimamente così così, eh. Però, insomma, spesso ci mettiamo lì su internet a vedere i risultati in real time, oppure anche qui con i colleghi di Sky andiamo a chiedere loro come sta andando la stagione, quali sono i giocatori emergenti, se ci può essere qualche sorpresa, e via dicendo. Beh, direi che queste sono le cose che io e lui abbiamo maggiormente in comune. D'altronde, lo sapete, a me piace la letteratura, il teatro, i fumetti, i giochi di ruolo, i giochi di carte tipo Magic, serate tranquille, il cinema. Il Godzilla, invece, ha la sua bella moto, i tatuaggi, una vita un po' più spericolata. E quindi, insomma, è forse anche per questo, no? Che le telecronache, almeno spero, sono così piacevoli. Perché? Siamo molto differenti, abbiamo background, vite, esperienze divergenti, non simili, collaterali, e quindi quando si trovano a scontrarsi nasce quella goccia di magia che cerchiamo di portare in televisione. Va bene, direi che oggi è tutto, ma magari mi sono dimenticato qualcosa. E allora, di taro venti qua sotto, se mi sono dimenticato una passione che io e il Godzilla condividiamo, ricordatemelo e ricordatemela voi. Prima di salutarvi, vi ringrazio come sempre dell'ascolto, siete tanti, magari ci sono youtuber che fanno 10, 100 volte questa platea, ma a me va bene comunque così. E se vi va di aiutarmi a far crescere il canale, qua sopra su YouTube lasciate un mi piace proprio al medesimo. Per oggi è tutto, grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo presto con Chiedi al Bardo. Ciao!